Hard Probs 2012 a Cagliari significato un grande sforzo organizzativo, poi una soddisfazione per gli incontri scientifici di altissimo livello internazionale e anche qualcuno da ringraziare, qualche istituzione che ha contribuito. Noi abbiamo avuto in particolare una fruttuosissima collaborazione con la regione Sarba, la quale ci ha incoraggiato moltissimo a organizzare questo evento nella città di Cagliari, quindi non in un posto di mare qualunque, in giro per la Sardegna, ce ne sono tanti. Questo con l'idea precisa di favorire e incentivare l'organizzazione, promuovere l'organizzazione di eventi culturali e scientifici nella città di Cagliari. La regione ci crede molto e noi siamo contentissimi di aver aderito a questa idea, cosa che peraltro ci ha poi permesso di dare un supporto notevole a tanti giovani, cosa che sarebbe stata molto più difficile organizzando l'evento altrove. Grazie a tutti.